ciao abito for friends buongiorno benvenuti e bentornati sul canale oggi il nuovo video ovvero il quarto vlogmas doveva essere il quinto ma ieri non ho già registrato niente di niente che era il quattro perché non sono stata a casa e quindi non ho registrato niente mi sono proprio dimenticata e quindi oggi è il 5 dicembre e niente ragazzi quindi niente ora iniziamo il video quindi prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi al mio canale commentare lasciate un like e trovate la campanella ora iniziamo che molto molto bene rieccomi allora ora iniziamo qui stamattina non sono stata a casa alex a base volume non sono stata a casa perché ho finito insomma diciamo di prendere le altre cose per il mio complanno che è domani ovvero il 16 a 3 quando è che vedete questo vlog sarà proprio il 6 e niente ora per usare un po cosi mangio sto seguendo la musica e niente comunque ho preso l'ultima cosa che dovevo prendere già più utile stato praticamente dicendo che ho preso l'ultima cosa ho preso il pestone ho preso le caffè le piattini perché tutto quanto poi ho preso altre cose per fare poi per cucinare per domani faccio la festa perché già ho spiegato in altri blog come mai non sto proprio facendo la festa niente sto iniziano tardi questo vlog perché sono mezzogiorno perché visto che sono uscita dopo devo uscire di nuovo e niente scusatemi perché non ho fatto il vlog di ieri non ho potuto registrare niente ieri era domenica quindi questo è il quarto vlog ma c'è un quarto quinto vabbè e niente raga oggi sono proprio così fa male un po la cura ma vabbè niente poi faccio vedere tutto domani quando il 6 di dicembre che io non l'anna faccio registrare anche il vlog vabbè e niente raga oggi registro poco anche oggi so l'abbiamo promesso però registro poco oggi e tutta la giornata si però poco e niente raga si ora vado e vado a bagnare cioè anche oggi ci vediamo ci vediamo niente raga vabbè 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 a pranzo. Dopo di lì non ho potuto più registrare perché non sono stata a casa e poi sono tornata in casa. Ok, se non sono stata a casa, cioè non sono stata a casa, poi non sono stata tornata. Devo posare gli occhiali. Dovrei pulire di nuovo. Gli occhiali li pulisco con questo kit qui, che è del deco. Kit per il zio occhiale. Non so se ci vedete, è benissimo. E ora, devo vedere, non ho potuto, non ho tantissimo. Ho fatto ancora la cerce, non ho tantissimo. Ecco qua. Cioè, proprio, non ho potuto ancora. Cioè, prego e tanto, perché vado a 1,95€ con lì, diciamo. E quindi, questo sale. E praticamente avevo questo qua, per cui, io ho chiamato, mi cittano molto le messe. E lo posso vedere un attimo, anche la borsa. sempre. Questa borsa qua. E poi, cosa faccio? Quindi, niente. Stavattina, non so se ve lo a spiegare. Allora, un conto per i giorni. Tornandola. Ho detto, non ho potuto donare più registra, perché non c'è paura di fare cari impegno per organizzare una festa. Cioè, per organizzare una festa a casa. E poi, stavattina, sono, insomma, uscita perché, allora, ho dovuto andare un attimo dall'ufficio a prendere le cose. Poi, insomma, ho dovuto fare di altre cose, andare a prendere le pantele, il vestito, le cose. Che poi, però, insomma, vedete nel viaggio che farò. Alexa, quante ore mancano a mezzanotte? Un'ora e 16 minuti mancano a mezzanotte. Praticamente, non so, ho dovuto andare, insomma, a prendere le pantele, le teglie di pizza. Poi, vedete, ho dovuto andare al cinese. Prendi questo, vuole il pallone con la cazza. E poi, i piatti, i piatti, i piatti, i piatti. Oh, mi sono dimenticata una cosa. Vabbè, dov'è mettere una da prendere. Comunque, ho dovuto andare a prendere le altre cose, perché c'è manca un'altra cosa, insomma, quindi sono stata un po' impegnata questa giornata. In gente, sono stata un po' impegnata in questa giornata. E quindi... E quindi, vedete solo con queste precisi estampi, perché sono stata super ingegnata, perché ho dovuto fare le ultime cose. Dopo ne metto, insomma, finito presto, perché devo fare prima delle cose e poi, insomma, mi incomincio a preparare. Vi oh, non, per favore alla zera. Un po' un po' lontano me no. Sì. In più. Un po' un po' un po' e che, non? E poi... In più? Un po' 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 un po'... Poi, questo è un altro scontro, scusatemi, è stato un attimo, ma perché ho perso uno scontro di quello che ho preso qua stamattina, questo qua, aspettate, ho perso molto una cosa, ma vediamo, vediamo, devo provarla qui, rieccomi, allora, non ho trovato tutto, non ho trovato vedere un attimo dei scontrini, un po', vediamo un attimo dei scontrini, è lenta, ora, vado, molto costruito, lo metto in line domani mattina, spero che lo faccio, anche se è poco, anche se è poco, lo metto, lo metto, lo metto, lo metto, lo metto, lo metto, va bene, e questa è lenta più, non lo so, cosa ho detto, non ho ricordo, domani, vabbè, farò il vlog, del compleanno, che è domani, il 6 dicembre, che è domani, il 6 dicembre, tanto questo video lo vedete il 6, anti dicembre, io spero che questo video vi piaccia, questo vlog, il quarto vlog, ma si vi piaccia, e mi metterà questa domani mattina, e devo andare presto, per le 6, se è qualcosa della mattina, sarà una giornata full, proprio, impegnativa, impegnativa, e, e, te lo faccio, per questo, e, te lo faccio, per questo, e, te lo faccio, e, te lo faccio, vorrei trovare la parte vera di me, niente, e, spero che questo quarto vlog massi che mi,algminster, vi piaccia, quindi, prima di, il fine dei vostri vlog, vi invito assolutamente, ad iscrivermi al mio canale, come sapete, in questo modo, se vi è piaciuto questo quarto vlog massi, ho registrato oggi che è 5 di dicembre non ho registrato nulla il quattro vado con nessun online oggi che è 5 e non vado fatemi sapere se vi piace e se vi piace anche lasciando un bel asco così mi fate sapere se vi piace e l'ultima cosa attivate la campanella così non mi perdete il solito va bene io vado e ci rivediamo domani con il vlog del compleanno domani volevo dire al prossimo video al prossimo video vlogmas ciao